Seconda parte del video siamo nella pizzeria Anima e Cuore Allora grande Silvano Ti fai la birra? Dove è la birra? Dove è la birra? La tua? La birra? Pare Caloccio La birra dove è la birra? Birra siciliana Vedi? Birra siciliana Vedi? In Bari Palermo si vede ovviamente Ah la birra bella Cienci Prendiamo la Juventus Alla Juventus Alla Juventus Alla Juventus Ah bella birra Aspetta che ora faccio Ah E ci siamo Vedete qua Vedete qua A posto lo metto più qua Così non casca Number Magari metti numero uno Numeri Guardate numero uno Numeri uno Numeri uno Numeri uno Numeri uno Numeri uno Lo cazzo è scasso Come lo cazzo ragazzi? No no È scassissimo È scassissimo Qua ci tagliamo anche la mia cosa Viva Siracusa Un bacione a tutti i saneracusani Complimenti ragazzi La città è bellissima Ho visto la città Elegante Pulita Un po' storica Abbiamo visto come C'era Kimete Sì Bravo Però non c'era Tempio da pollo Tempio da pollo La pelle fila da pollo Fece la palla di pelle di pollo Tutti i pesci venivano a carla Per vedere la palla di pelle di pollo Fate le pelle fila pollo Che cazzo Poi che vittimo la Un po' lei Diana Mi sono innamorato di Diana Diana quella? È la fontana La fontana La fontana è Diana Diana Bella Diana Quindi Siamo in diretta con la foto che ho messo Anima e Core Grande Anima e Core Venite a Siracusa Anima e Core Hai che tu sei messo la Sì sei grandissimi Anima e Core Non mi siano dimenticato Anima e Core Ora lo dico no? Parliamo di Bernardeschi Secondo video Parliamo di Bernardeschi Ragazzi Bernardeschi cosa ne pensano? Ma Ma perché sempre le minestre Scalpate? Ragazzi Bernardeschi C'è ma giocatori in tutto il mondo Solo Bernardeschi C'è io non lo so Perché Bernardeschi Caffa è Bernardeschi Guarda che lo faccio Può fare uomini e donne a Toronto Caffa è scasso Caffa Ma noi Guarda I junior È che fotte Bernardeschi UeA è che fotte Bernardeschi Siamo così da Costa a Bernardeschi Guarda che fai con Bernardeschi ragazzi Cosca era bravo Era buono Era bravo Douglas Costa Era un grande Era un grande però Era rotto Era rotto Era rotto Era rotto come ti va Grande Grande Usa come parla Le Diosca Le Diosca Grande Ma domani si vince Le Diosca Domani dobbiamo vincere C'è suo migliore Le Diosca Nell'azzurro Nel teo occhi C'è la cuore Le Diosca Siciliano Siciliano Ragazzi Un giocatore nuovo Un giocatore nuovo Un giocatore nuovo Bernardeschi Un nuovo Anche a posto zero Ma è nuovo Io non lo so guarda Sti ministri scattati Come dici te guarda Veramente è scattatoroso Ma nooo Che dici? Ragazzi Allora Danilo è infortunato Quanto c'è da di stop Danilo? Eh Alexandro è meglio Perché È rotto Allora Ripeto Porte da cambiare Dezzi da cambiare C'è no campo e scassi C'è no Non c'è niente Proprio Allegri che gioca A slot machine La Carlette Caroulette Allegrate di Allegri Sai cosa sarà? Non lo so qua Nicolus Caviglia Didolare Vuoi vedere tu? Non piace Caviglia? No Non lo hai visto giocare Non lo metto Nicolus Caviglia La Caviglia La Caviglia Comunque parlando un po' di fagioli Fagioli Che tu devi restituire i soldi Fagioli Ha fatto Allora Si è peso 40 milioni C'è una bugia C'è un orologio 40 milioni Guardi 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 volendo, ha detto corona per la Serie B giocava, non va bene, speriamo sia vero, speriamo, è anche vero, ora siamo allegri alto, ma se giocava il Rotomachine non ce ne fotte niente, i giocatori possono allenatore, possono giocare cavalli, che non sono, possono giocare cavalli, che lo chissiano, Rotomachine, rosso, nero, ma il problema è non giocare il calcio, ecco perché ho perduto sempre per una scommessa, noi perdiamo e loro vincono, non va bene, e intanto fagioli, scommiscono, hai sentito uno video che si scendia, si dice, vi tagliamo le gambe, se non ci dai soldi ti ti tagliamo le gambe, fagioli, libera di guidare il male. Secondo me lo dovrebbe levare a Juve, dovrebbe proprio eliminare, non buttarlo qui, cioè venderlo. Allora, ora, fagioli, noi ti perdoniamo, ma l'anno prossimo per perdonarti devi difondare, devi fare 10 gol almeno nel camminato. C'è una camicia che non insegno mai, quindi poco fa, allora ripetiamo, Prus Valencia e Juve, Prus Valencia e Juve, vediamo. Pianici. Pianici, vabbè, aspetta. Poi c'è Caccio Scommesse, Suarez, Same. Poi, che abbiamo fatto, quindi, doping. Super Lega. Super Lega, Agnelli, Agnelli. E ora? Aspetta, più che ha, più neanche ne metta. Caccio Scommesse, Allegri, fagioli. Un let machine. Cioè, ragazzi, tutte cose avevamo, cioè non lo so. Manca, come dice Nati per vincere, sorpresto di persona e violenza. Poi siamo comprati. Vero, cazzo, come c'è l'allentine. Guarda, ma, 30, 50 milioni. Allegri, non li controlla. Devi, 50 chilometri siamo dalla terra. C'è un terremoto all'allentine. Almeno non li controlla Allegri. Non li controlla, perché sono cani sciocchi. Guarda, quanto pacchio che c'erano le femmine qua. Cani sciocchi, grande, grande bario, qual è? Comunque, abbiamo visto Lady Oscar, Lady Oscar, abbiamo visto, ragazzi. Vi saluto, seconda parte, un bacione a tutti. Ciao, ragazzi, iscrivetevi al canale di Imparapalle. Anche di Calogero, Calos, di Enneavolo Bravo. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ci abbiamo qua, mio followers. Alla prossima. Vedi, si è girato qua a figata Allegri. Valentina, Valentina, figata Allegri. Ma mai perdiamo domani. E poi c'è cosa, arrabbiò, Lady Oscar che ride. Lady Oscar, Lady Oscar. Comunque, grande, satizia, bella. Io mi pare che pure l'altro, candy candy, dolce, candy, abimo, cuoco. Ma che è la maglietta gioventina. Sempre gioventina, eh? Maglietta gioventina. Sei rimasto? Forza i uve, proprio. Si, si. Mi raccomando, fino alla fine. Secondo me questa è la te la sacco. Allegri, house. Sempre. Mi raccomando.